I rifiuti provenienti da un cantiere di Bollate erano finiti illegalmente a Carate-Brianza. I carabinieri forestali del nucleo di Carate hanno perquisito tre persone, tutte indagate per gestione illecita di rifiuti. Impegnati 20 carabinieri forestali con il supporto di ufficiali di polizia giudiziaria della procura di Milano. Intervenuto a supporto anche un elicottero dell'arma dei carabinieri. L'indagine è scaturita da anomalie emerse nella gestione dei rifiuti all'interno di un cantiere per la realizzazione di un impianto di rifornimento di carburante. Degli ingenti quantitativi di rifiuti provenienti da questo cantiere, sia da demolizione che terre e rocce da scavo, non è stato possibile ricostruire la tracciabilità e la gestione legale. Da qui la contestazione di illecito smaltimento di rifiuti. A conclusione dell'attività di indagine si è quindi proceduto ad effettuare una perquisizione locale presso la sede delle due aziende Brianzole coinvolte nell'attività illecita. Rinvenuti i documenti utili ai fini dell'indagine, inoltre in uno dei due siti produttivi interessati dalle operazioni, sono stati trovati in un deposito circa 500 metri cubi di rifiuti da demolizione, edilizia e terre e rocce da scavo illegalmente depositate. L'azienda infatti non è autorizzata al deposito e alla gestione dei rifiuti. Il committente dei lavori è risultato invece del tutto estraneo. Denunciate tre persone, amministratori delle due società delimbiate e coinvolte. Il settore delle terre e rocce da scavo e quello dei rifiuti da demolizione edilizia costituisce un mercato assai fiorente, ricordano i carabinieri. Il notevole accrescimento negli anni post-covid negli interventi di edilizia privata e pubblica ha generato notevoli quantità di rifiuti di tal genere che, se adeguatamente utilizzati, costituiscono uno strumento vantaggioso di un ciclo dei rifiuti virtuoso, dove invece i stessi rifiuti vengono immessi nel mercato e nell'ambiente senza cui controllare l'eventuale trattamento, costituiscono un vulnus per l'integrità e la sicurezza ambientale.